con dietro la bomba atomica dietro video 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 con il tramonto faccia il tramonto va che roba bomba atomica è scoppiata li sto già facendo ma allora che parlo io ve l'ho già fatto a tutti questo c'è su anche il microscopio per vedere meglio non è vero che è una pila per vedere meglio cosa sasso non è addestrato lui di solito quando dici sasso scappano tutti lui non è scappato cosa vuoi fare sei sicuro ma che c'è i guanti dove va dentro nella ceniera qua in mezzo è preciso cioè se cadi che ti ribalti lo spazio in mezzo bravo preciso adesso di solito guarda io porto sfiga vado a toccare la croce anzi se tocchi la croce secondo me ti carbonizzi se ti può consolare se ti può consolare se te l'aveva detto mia moglie si era già crepato se già così intanto che te lo infilavo nella cerniera proprio no no ma lei guarda che bella questa va che spettacolo spampi che figata ma quando cazzo la fai più una foto così spettacolo e si un attimo ma scusa ma perché il sole sotto non lo facciamo nella croce e ciao ormai adesso questo due minuti non c'è più eh l'unica cosa che può passare un ufo se vuoi una volta non eri così ascolta è 35 anni che sto con spampi che cazzo pretendo che miglioro cioè anche anche quasi 40 ormai ormai va bene a posto questa sera e chi ci invidia buon per loro quello è la malpensa che sta arrivando su un apparecchio che sono quelli che passa sopra sopra di me tutte le sei tutti i giorni 200 la no ha già spento le luci basta ha già spento le luci del decollo bello comunque stasera meglio dell'altra volta qual è la che stanno accendendo le luci ma che incominciano a accendersi e adesso questo vedi guarda che a mano a mano si incominciano a pizzare ma che roba che brutti versi che fate voi tre o siete proprio bisbino fai un giro no ma sai perché per così gli stacchi gli adesivi del tutto che li cambia perché sennò non mi scanno ma non sono tanto staccati per adesso eh e quando piove va via l'acqua diretta non gli piove dentro negli stivali quante cazzate che abbiamo detto oh madonna c'è un avvoltoio frank un avvoltoio guarda le nuvole là è un avvoltoio orco il cane se porta sfiga è un segno se porta sfiga sanziulati ragazzi è un segno Pietro se porta sfiga l'avvoltoio là la nuvola siamo fregati eh guarda sembra che sta venendo sui zampini sembra che sta venendo sul temporale cazzo no per dire no di là c'è un vento ho girato dalla chiesa ma soffiato indietro orco diavolo di là c'è un vento esagerato e dobbiamo andare dobbiamo andare cazzarola andiamo su vento e torniamo giù subito ma va là ti hanno messo in croce una volta a seconda volta non ci riesco andiamo oh coppia guarda che appena passi la cosa c'è un vento della madonna no di qua adesso appena esci dal muro ti soffi giù ma dobbiamo passare lo stesso dobbiamo passare e dopo andiamo giù di là facciamo la croce e andiamo giù ma certo che viene ma non di stupidata diglielo eccezionale